Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaldro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è. Da capopiede, sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Sono belli gli occhi azzurri e il nasino un po' all'interno, ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Due manine deliziose ti sapranno a carezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Quando una maschietta dal musetto seduttore ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente e ingannatore. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Sono belli gli occhi azzurri e il nasino un po' all'interno, ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Due manine deliziose ti sapranno a carezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Grazie a tutti.